Quando però parliamo di open data, allora dobbiamo capire un attimo di cosa ci occupiamo, cioè se abbiamo detto che il diritto d'autore scatta automaticamente, che esiste poi questo diritto sui generis, questo strano diritto sulle banche dati anche quando non sono creative, e allora come faccio a far diventare open data un dato? Io raccolgo una pubblica amministrazione oppure una start-up che realizza una banca dati, raccoglie una massa di dati e li vuole mettere a disposizione del pubblico liberamente, come faccio a farli diventare open? Visto che il diritto d'autore, come abbiamo spiegato, è closed by default, cioè tutto è tutelato tranne ciò che non è espressamente sotto un'eccezione, quindi non è rilasciato espressamente con uno strumento che lo rende open. Torniamo alla slide di prima, cioè torniamo a questo schema qua, cioè lo strumento è la licenza open, questo CC che vedete a destra, ok? Cioè, visto che automaticamente colui che crea una banca dati ha una serie di diritti, se questa banca dati vuole essere rilasciata in modalità open, cioè resa aperta e utilizzabile liberamente dagli utenti, il titolare dei diritti, cioè il costitutore di questa banca dati, lo deve dire espressamente, cioè deve stabilire che siamo in una situazione di libero utilizzo attraverso questo strumento contrattuale della licenza. Torniamo alla nostra slide, la slide ci dà anche una definizione di che cos'è una banca dati, scusate, di cos'è un'open data, di che cosa si intende per open data, quindi quando una banca dati è da considerare open. Partendo dalla definizione open data fornita dal codice di amministrazione digitale e dall'open knowledge of foundation, che il codice di amministrazione digitale è un testo giuridico italiano, un testo normativo italiano, la open knowledge of foundation è un ente internazionale che fa divulgazione e sensibilizzazione su questo tema e che ha fornito una nota definizione di open data, si dice che un dato è aperto se è liberamente usabile, riutilizzabile e ridistribuibile da chiunque, per qualsiasi scopo, soggetto al massimo alla richiesta di attribuzione e di condivisione allo stesso modo. vuol dire che appunto si parla di open data quando non ci sono particolari restrizioni, vedete è liberamente usabile, riutilizzabile e ridistribuibile da chiunque, per qualsiasi scopo, quindi non posso distinguere ad esempio lo scopo commerciale dallo scopo non commerciale, e al massimo l'unica restrizione, se così vogliamo chiamarla, che il titolare della banca dati può imporre è che ci sia la richiesta di attribuzione, cioè che lui ci richieda di essere citato come titolare del diritto, cioè che gli venga attribuita la paternità di quest'opera, e di condivisione allo stesso modo, dopo ve lo spiego meglio in una slide, però tra le licenze che la T-Commerce, tra quelle utilizzate per il mondo open data, c'è anche una licenza che si chiama Share Alive, che condivide allo stesso modo, cioè il licenziante, cioè l'autore della banca dati, colui che rilascia con la licenza la banca dati, ci chiede che nel caso io, utilizzatore, prenda quella banca dati per farne un'altra banca dati, io debba condividere anche quest'altra banca dati con la stessa licenza, è quello che nell'ambito dell'open source del mondo software viene chiamato copyleft, nel mondo delle opere non software, quindi banche dati, opere creative in senso più lato, si chiama Share Alive, cioè condivide allo stesso modo, dopo comunque lo vedremo meglio. Però allora, giustamente vi avverrà sta domanda, cioè ma se io voglio rilasciare una banca dati liberamente, non basta che io la metta su un sito così brutalmente, non dica nulla sul copyright, così la gente la può utilizzare liberamente? In realtà no, perché visto che abbiamo spiegato come funziona il diritto d'autore, cioè il copyright è un closed by default, se io metto una banca dati ma anche una qualsiasi altro tipo di opera su un server e non dico nulla e non metto una licenza che autorizza a fare alcune cose, in realtà non ho davvero liberato l'opera, non ho davvero liberato la banca dati, perché gli utenti non sapranno mai se lì c'è un copyright o meno, e visto che un copyright c'è quasi sempre, un utente che agisce con prudenza dovrebbe ogni volta a mandarmi l'email o scrivermi o contattarmi in qualche modo per chiedermi il permesso ad utilizzare la banca dati, quindi contrario rispetto a quello che si pensa, cioè tutte le volte che voglio liberare una banca dati lo devo dire espressamente attraverso una licenza. Le licenze possono essere di due tipi, diciamo due macro categorie, poi potremmo fare di questa slide una serie di sotto insiemi infinita, però da un lato abbiamo le licenze proprietarie e dall'altro le licenze open. La licenza proprietaria è una licenza che la parola proprietario ci richiama il concetto di proprietà intellettuale come vi ho anticipato, è una licenza proprietaria come vedete in questa metafora, che è la metafora del cartello all'interno all'ingresso di un parco, una licenza proprietaria è una licenza che mi dà pochi permessi e tanti divieti. La metafora è la stessa, io prima vi ho parlato della proprietà su un terreno, su un appartamento, che è la proprietà privata classica romana, e la proprietà intellettuale che è quella invece su beni immateriali, cioè se noi usiamo la stessa metafora all'interno di un parco, se questo parco è un parco privato, il suo proprietario ci fa magari entrare, cioè quindi ci dà una certa fetta di libertà, ci permette di entrare gratuitamente, ma nello stesso tempo ci dice attenzione che però in questo parco puoi entrare solo dalle ore 9 alle ore 12, non puoi giocare a pallone, non puoi raccogliere i fiori, non puoi fare il picnic, non puoi portare il cane, no? E quindi la licenza viene utilizzata più che altro come strumento per aggiungere restrizioni rispetto a quelle che normalmente già la legge prevede. La licenza open fa esattamente il contrario, la licenza open serve per creare quella eccezione di libero utilizzo che vi ho detto prima, cioè quindi attraverso la licenza open il proprietario di questo parco ci sta dicendo che siete dei benvenuti, cioè vi dice ok, siete liberi di entrare in questo parco, sia dalle 9 del mattino fino alle 8 di sera, potete fare il picnic, potete giocare a pallone, potete portare il cane, però non potete accendere fuochi, cioè lascia comunque alcune restrizioni, cioè tendenzialmente la licenza open ha comunque una serie, anche se marginale, anche se ridotta, di restrizioni. Perché? Perché se non ci fossero restrizioni allora sarebbe un pubblico dominio, sostanzialmente, sarebbe una sorta di dichiarazione di rilascio in pubblico dominio, che è un passo più forte, più radicale rispetto a quello di mettere fuori una banca dati o un'opera in genere con una licenza open. Cioè la licenza open prevede che comunque ci sia ancora un proprietario, ma che questo proprietario del parco ci stia dando una serie di libertà, ok? Il pubblico dominio, torno scusate alla vostra slide, ma quella ci aiuta sempre, il pubblico dominio è, vedete, è un copyright barrato, cioè quindi non c'è più copyright, non c'è più nessun diritto, è di tutti, è come se quel parco fosse demanio, l'esempio delle, non so, le spiagge, no? Le spiagge non sono di nessuno, tranne la parte in cui ci sono i lettini, quindi lì c'è una concessione pubblica, però la parte sul bagnasciuga è terreno pubblico, è di tutti, ok? Quindi lì nessuno mi può imporre restrizioni, è la stessa cosa nel parco, cioè se lì ci fosse un cartello che ho scritto, signore questo è un parco pubblico, fate quel cavolo che volete, sarebbe terra di nessuno e saremmo in una situazione di pubblico dominio, invece lì no, lì c'è un proprietario che ci dice, io sono il proprietario, ti do una serie di libertà a condizione che tu mi rispetti alcune regole, no? E queste alcune regole nel mondo delle licenze open data sono proprio quello che aveva detto la slide di prima, cioè il riconoscere la paternità dell'autore e al massimo lo cosiddetto share a like, il condivide lo stesso modo, quindi torno alle slide, questa è un po' la situazione che si crea, no? Cioè con le licenze CC, con le licenze open si crea una sfumatura all'interno di questi due bianchi e neri, no? Cioè il bianco, il nero del copyright è tutti i diritti riservati e il bianco dall'altra parte del pubblico dominio, nessun diritto riservato. In mezzo abbiamo alcuni diritti riservati, cioè le licenze CC, licenze open in generale creano queste sfumature che invece normalmente non ci sarebbero, perché c'è una situazione di binari acceso spento. Vabbè, adesso qui è un po' una ricostruzione storica, cioè quando all'inizio si è iniziato a discutere il tema degli open data, le licenze crediti commos non erano pronte, possiamo dire, cioè non era, c'era un buco, le licenze crediti commos esistono dal 2002, però di open data si è iniziato a parlare negli anni successivi. Quando si è iniziato a parlare di open data, di dati aperti, ci si è accorti che le licenze crediti commos, che sono le licenze statunitensi, americane, che noi poi abbiamo importato in Italia, non si occupavano del diritto sui generi, di quel diritto che si applica alle banche dati in Europa e quindi non funzionavano bene sulle banche dati. Perché? Perché se già in una fetta importante del mondo, cioè in tutta l'Europa, nei 28 o 27 paesi dell'Unione Europea, queste licenze non funzionano bene per le banche dati perché non hanno previsto quel diritto, andavano emendate, andavano aggiornate. Infatti, negli anni, nel 2013, sono arrivate le licenze crediti commos in versione 4.0, il problema è stato risolto, infatti nella slide precedente avevo scritto, non vedete il problema, ora superato, delle licenze che non licenziano il diritto sui generi, questo è il titolo della slide che in realtà già riassume il senso. Ad oggi siamo in questa situazione, cioè quindi degli strumenti giuridici per fare open data sono sostanzialmente queste tre gambe del nostro schema. Cioè, quali degli strumenti giuridici che rispettano la definizione di open data che vi ho fornito nella slide precedente, in una delle slide precedenti. Possono essere delle licenze oppure delle dichiarazioni di rilascio in pubblico dominio. Quello che vi ho detto prima, cioè c'è anche l'opzione per cui l'autore rinuncia a tutti i diritti. Cioè, quindi quello che crea una banca dati decide di non essere più interessato a tutelare il suo diritto d'autore, no? E quindi dice, no, ma io non esercito più questo diritto, quindi lo fa attraverso una dichiarazione di rilascio in pubblico dominio. È una cosa simile a una licenza, però è più forte della licenza, no? È come se il titolare del parco appunto togliesse addirittura il cartello oppure cancellasse il testo del cartello e mettesse solamente una frase con scritto, signori questo parco è di tutti, fatene quello che volete. E quindi lui rinuncia a esercitare il suo diritto di proprietà. Nell'altro caso, quindi qua a sinistra invece abbiamo le licenze vere e proprie, cioè le licenze prevedono che ci sia un licenziante, colui che rilascia l'opera in licenza, e dei licenziatari, coloro che ricevono l'opera in licenza. E vedete, le due opzioni sono queste, licenze che hanno sia la richiesta di attribuzione che la richiesta di share a like, di applicazione della stessa licenza o di condividere lo stesso modo, o semplici licenze di semplice attribuzione, cioè puoi fare sostanzialmente, gli utenti possono fare sostanzialmente quello che vogliono della banca dati a condizione di riconoscere all'autore la paternità, quindi citare di volta in volta che i dati provengono da quella fonte. E qua ci sono queste sigle che vedete, questi acronomi sono le licenze, la CC e la Praticomus by SA, la CC by, e poi sotto ce ne sono altre diciamo meno utilizzate, un po' meno famose.